Gli incendi nei boschi quest'estate sono il doppio dell'anno scorso, ma la novità è che ora gli incendi scoppiano anche sulle colline delle metropoli, vedi Monte Mario a Roma, o nelle discariche, vedi Palermo, oppure in alta quota dove l'autocombustione è inesistente, o anche nelle strutture abbandonate come il mancato polo agroalimentare di Eboli, una delle incompiute vergogne d'Italia. Ed è aperta la caccia al piromane autentico criminale che deliberatamente o per negligenza causa danni in mani alla natura, al verde e agli animali. Ed ogni volta o siamo in tavolo oppure siamo in poltrona, non possiamo fare altro che assistere impotenti allo stilicidio delle notizie, del prodigarsi dei vigili del fuoco e degli agenti della forestale o dei volontari, spesso a rischio della vita. E dal di là del rischio supremo c'è l'enorme danno economico, un albero bruciato ogni due minuti, l'uso su scala industriale dei Canadair, questo immenso aeroplano che imbarca 7 mila litri d'acqua alla volta e che costa 14 mila euro all'ora, oppure all'elicottero a cui va la palma del mezzo più economico, diciamo così, perché costa 5 mila euro all'ora. L'anno scorso lo Stato italiano ha speso 122 milioni di euro, quest'anno Monti ha inserito anche i rughi nella spending review ed ha tagliato di un terzo i fondi, ma insomma siamo davvero convinti che in Italia ci siano tanti piromani e poi dobbiamo rassegnarci o c'è un modo per prevenire gli incendi boschivi. Un sistema fu trovato qualche anno fa con un contratto di lavoro per i volontari strutturato in maniera inversamente proporzionale, meno incendi uguale, più guadagni. Un sistema elementare che evidentemente però non conveniva a qualcuno perché pur riscuotendo successi e consensi i risultati fu subito eliminato. Ed è anche risaputo che avendo l'anagrafe degli incendi, quella dei soggetti recidivi in questo tipo di reato, unitamente ad uno screening satellitare delle aree del pianeta è realistico, controllare e prevenire i rughi con l'aiuto delle tecnologie ed intervenire su un incendio nell'arco temporale di minuti e non di ore, come accade oggi. Ma la realtà è che a più di uno interessi più che si acquistino aerei, che si sia costretti a rimboschire le aree distrutte o si liberino ettari per il pascolo, perché questo significa magari più economie, più foraggi e accessori per gli animali. Insomma, interrogativo, è possibile che dietro agli incendi ci sia una sottile cabina di regia? E quanto costa questo gioco alla comunità? In questo video realizzato dalla NASA con foto scattate dai satelliti dal 2002 al 2011 si vede la Terra, ormai ex pianeta di Dio, devastata da 40 milioni di incendi dal 2002 appunto al 2011. È la mappa di 10 anni di rughi meno diffusi in Europa, dove bene o male c'è un sistema di interventi, ma che invece devastano il 70% di un continente come l'Africa. E qui i piromeni non c'entrano, perché quella dei maniaci, dei criminali sempre responsabili di tutto, è una leggenda che non si regge più.